Siamo in tanti e tante, e tanti e tante stanno arrivando. Dentro la Verdi 15 occupata ci sono ancora tanti studenti e studentesse che lì avevano la loro casa, che lì abitavano, che facevano vivere di una vita diversa, quello spazio, quell'edificio. Noi siamo qui per dire che la Verdi 15 resiste, che la Verdi 15 non molla. E ora, vediamoci qua, aspettiamo altra gente, ma poi capiamo di andare anche verso le università a comunicare con gli altri studenti, con la popolazione, per dire cosa sta succedendo qui oggi.